Sono soddisfatti a metà i 1762 dipendenti dell'Anatuzzi che fino a ieri rischiamano di rimanere senza un lavoro. L'azienda almeno per ora non licenzerà nessuno. Dopo un lungo braccio di ferro tra la proprietà e i sindacati, l'Anatuzzi ha deciso di accettare la proposta del governo di sospendere la mobilità. Io sono fiducioso perché credo che l'Anatuzzi sia una realtà importante del nostro paese e non bisogna gettare la spugna. Bisogna pensare invece che l'Anatuzzi ha un perno di un sistema produttivo e ha le capacità per esserlo. Ora l'Anatuzzi avrà tre mesi di tempo per ridisegnare il piano aziendale, ma fino ad allora i lavoratori non sono disposti a cedere. Per loro questa battaglia sarà vinta solo quando dalla sospensione si passerà alla revoca definitiva della mobilità. Noi lotteremo per cambiare quel piano industriale e per definire un livello sostenibile di un processo di riorganizzazione produttiva che è comunque necessario. E come all'Anatuzzi, anche alla Indesit il futuro dei dipendenti è incerto. L'azienda vorrebbe spostare parte della produzione in Polonia e Turchia, lasciando 1425 persone senza un lavoro. Così anche oggi gli operai dello stabilimento di Milano hanno incrociato le braccia. Stiamo continuando a fare degli scioperi articolati nello stabilimento, scioperi a scacchiera o chiamati anche a gatto selvaggio. Praticamente facciamo scioperare dei gruppi di lavoratori alternandosi. E qualche centinaia di metri più in là, poco distanti dallo stabilimento della Indesit, questa mattina c'è stata un'altra protesta. I lavoratori della Tecnowind si sono uniti in presidio a Marischio di Fabriano. Qui 350 persone da un giorno all'altro potrebbero essere licenziate.